Il pericolo delle emozioni, il vero pericolo delle emozioni in cosa consiste? Consiste nel fatto di fare delle scelte quando si è emozionati, quando si vive uno stato emotivo. Ad esempio decidere di sposarla quando sei emozionato, quando sei innamorato, per dire potrebbe essere una scelta avventata. O decidere di fare qualcosa quando sei in preda alla paura, cioè non puoi ragionare in preda alla paura, in preda al panico, in preda all'amore, in preda a stati emotivi molto forti. Lì bisogna agire istintivamente qualche volta, ovviamente se tu hai paura innesterai rapidamente una risposta di lotto di fuga, ma prendere le decisioni non è il momento giusto. Per prendere decisioni devi far passare le emozioni, abbassare il livello emotivo e utilizzare la ragione, perché quando l'emozione è forte la ragione lo è di meno. Lo dicevano pure le nostre nonne, noi quando si è innamorate le fettine di prosciutto sugli occhi, devi toglierti queste fettine per decidere. Metti un like e con l'abbonamento base, seguo tutti i miei seminari. Ciao a tutti.